C'è un uomo solo al comando. L'immortale annuncio con il quale Mario Ferretti disegnò l'impresa di coppie al giro del 49 e tra le più usate e abusate, ma non esiste probabilmente battuta più adatta per indicare le condizioni del sindaco di Teramo, Brucchi, sempre più solo alla guida del comune. A denunciarne l'isolamento non è però l'opposizione, ma la sua stessa maggioranza, per bocca di un consigliere regionale, quel Giorgio D'Ignazio che fu assessore nel Brucchi 1 e che così ricorda e analizza. Una volta eravamo una squadra dove qualsiasi stupidaggine si faceva, se l'assessore D'Ignazio, cioè io, faceva una stupidaggine erano tutti pronti una squadra a rimediare a quelle e andare in casa. Oggi invece sembra che si si diverta ad affondare l'uno con l'altro, andare sotto i portici a parlare male, questo porta alla sconfitta. A scatenare la reazione del consigliere regionale sono stati due episodi. Il primo è stato il mancato, il doppio mancato invito su Memmingen per la visita di agosto nella visita della delegazione tedesca a Teramo di questi giorni. Il secondo, ben più grave, il mancato invito al consiglio straordinario sulla sanità, anzi i mancati inviti. Io sicuramente no, parlavo l'altro giorno proprio in commissione con il collega Paolo Gatti, mi ribadiva il no, so per certo che anche Mauro di Almasio non è stato invitato, ma anche il presidente Chiodi. Che ieri in commissione sanità ha tenuto una reazione di circa 45 minuti, stupenda. Il Brucchi di oggi, secondo D'Ignazio, è come il sindaco di Roma Marino e corre gli stessi rischi. Quando ti isoli c'è il rischio che poi la gente che ti ha sostenuto ti toglie il sostegno ed ecco quello che è successo. E il consigliere regionale ha la sua soluzione. Unire sia sotto la programmaticità, ma anche e soprattutto ricreare un clima, quello che era un clima di amici, era un clima di persone che si davano da fare tutti insieme all'unisono, senza creare queste cose che poi portano a contrasti importanti. Grazie.